Astenersi dai discorsi inutili Per quanto possibile, stai lontano dall'agitarsi che fa la gente. Infatti, anche se vi si attende con purezza di intenzione, l'occuparsi delle faccende del mondo è un grosso impaccio, perché ben presto si viene inquinati dalla vanità e fatti schiavi. Più di una volta vorrei essere stato zitto e non essere andato in mezzo alla gente. Ma perché andiamo parlando e chiacchierando così volentieri con altri, anche se poi è raro che quando torniamo a star zitti non abbiamo qualche guasto alla coscienza? Parliamo così volentieri perché con queste chiacchiere cerchiamo di consolarci a vicenda e speriamo di sollevare il nostro animo oppresso da vari pensieri. Inoltre, molto ci diletta discorrere e fantasticare delle cose che amiamo assai e che desideriamo o di ciò che sembra contrastarci. Ma spesso, purtroppo, tutto questo è vano ed inutile, giacché una simile consolazione esteriore va molto a scapito di quella interiore e divina. Non dobbiamo passare il nostro tempo in ozio, ma in vigilie e in orazioni. E se possiamo o dobbiamo parlare, dire cose edificanti. Infatti, mentre il malvezzo e la trascuratezza del nostro progresso spirituale ci induce facilmente a tenere incustodita la nostra lingua, giova assai al nostro profitto interiore una devota conversazione intorno alle cose dello spirito, tanto più quando ci si unisca, nel nome di Dio, a persone animate da pari spiritualità.